Allora Alessandro, un augurio per questa città, il tuo augurio per questa città. Il mio augurio, brevemente, sì ci sono un po' di macerie in giro, ma sotto le macerie ci sono dei semi fortissimi. L'augurio è che a un certo punto tutti si prendano la responsabilità di innaffiare questi semi, cioè di far crescere la pianta che è insita e ha delle radici profonde in questa città. Tutti devono collaborare e mi auguro fortemente che tutti si impegnino a far sì che questo accade. Adesso che farai? Ripartirai? Riparto, ma la porta oramai è aperta. Riparto e ritornerò sistematicamente per portare avanti il mio progetto di contributo a questa città, ma anche, sinceramente, perché credo che per me sia un'opportunità proprio a relazionarmi con Taranto. Questa è la cosa. Va bene, il tuo saluto a Medin Taranto. Sì, è stato molto buono.